ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco acnicare a cosa serve acnicare a un parafarmaco appartenente alla categoria degli idratanti normalizzanti protettivi viso giorno e commercializzato in italia dall'azienda general topics srl informazioni commerciali titolare general topics srl concessionario general topics srl categoria di appartenenza idratanti normalizzanti protettivi viso giorno confezioni acnicare cream tintedore 50 ml indicazioni crema viso colorata per pelli grasse a tendenza acneica modalità d'uso applicare un'adeguata quantità di prodotto su viso e collo più a volte durante la giornata massaggiando delicatamente sino all'ottenimento di un colorito uniforme descrizione e caratteristiche emulsione viso colorata sviluppata per il controllo e la riduzione delle imperfezioni tipiche delle pelli grasse a tendenza acneica dotata di un efficace effetto coprente esplica inoltre un'azione idratante e un positivo effetto opacizzante acnicare cream tint a copyright ea stata realizzata in due diverse colorazioni claire dora copyright avvertenze il prodotto contiene acido salicilico ad una concentrazione dello 0,2 per cento non utilizzare il prodotto in caso di intolleranza all'acido salicilico ai suoi derivati il prodotto ha controindicato in caso di soggetti affetti da salicilismo ha sconsigliato l'utilizzo del prodotto in caso di terapia con farmaci anticoagulanti prima di utilizzare prodotti per le pelli grasse a tendenza acneica a sempre meglio consultarsi con il proprio medico farmacista a euro non utilizzare in caso di riconosciuta allergia ad uno dei componenti del prodotto a euro salvo diversa prescrizione medica non utilizzare il prodotto in ragazzi di età inferiore ai 12 anni durante la gravidanza o l'allattamento punto euro non esporsi direttamente al sole dopo l'applicazione del prodotto euro qualora insorgessero fenomeni irritativi della cute consultare il proprio medico prodotto cosmetico per uso esterno euro applicare solo su cute integra euro evitare il contatto diretto con occhi e mucose a euro tenere fuori dalla portata dei bambini componenti e ingredienti acqua water alcol denat triatile xanoin triatil citrate ceteari l'alcol etilinoleate arachidil alcol oligopettide 10 zinc lactate sodium ialuronate salicilic acid ceteari glucoside benil alcol bisetilexilidroxidimetoxidbenzil malonate arachidil glucoside glucose pentayritritil tetraditi butylidroxidroxidrocinamate caprilil glicol poliacrilamide c13 14 isoparaffin magnesium oxide fenoxietanol e xylene glicol sodium idroxide lauret 7 butylene glicol alumina parfum fragrance più c77 891 titanium di oxide c77 492 iron oxides c77 491 iron oxides c77 499 iron oxides fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato